Se, se cosa, se io, se tu, invito, 15 io invitassi da qua, 15, 7 persone in casa mia, a fare, da qui a fare il cuore, quante dita ti sarebbero in quella casa, 35 musical cars, i premi ancora, che ha il tuo giugno personalizzato come questo, e che ti facciamo che lavoro, ma penso che non vuoi adesso, non ci vedo più dalla fame, è fortuna che c'è musica in casa, con Alvin e J7, sono su Radio 105, un giorno, dalle 16 alle 19, Poi, chiamano la nostra segreteria allo 02-627-105 e faccio la sua santa, i più divertenti.